Ciao ragazzi! Oggi 10 LOL vi presenta un'intervista esclusiva a Ross Lynch, il biondissimo protagonista di Teen Beach Movie. Il nuovo Disney Channel Original Movie va in onda sabato 14 settembre 2013 alle ore 14 su Disney Channel Italia. Ross Lynch ha risposto al nostro questionario speciale tutto sulle vacanze. Godiamocelo nell'attesa di vedere Teen Beach Movie! Mare o piscina? Mare! Gelato o ghiacciolo? Gelato! Chitarra o lettore mp3? Chitarra! Infradito o sneakers? Sneakers! Prendere il sole o nuotare? Nuotare! Estate o inverno? Estate! Occhiali da sole o cappellino? Occhiali da sole! Appuntamento sulla spiaggia o uscita con gli amici? Appuntamento sulla spiaggia! Divertirsi o rilassarsi? Divertirsi! Non è finita qui! Diece LOL ha in serbo per voi un'altra intervista a Ross Lynch. Non perdere il prossimo video e sabato 14 settembre alle 14 sintonizzati su Disney Channel Italia. Teen Beach Movie ti aspetta! Harry Styles vide Vittoria e se ne innamorò. Vittoria aveva vinto il concorso. Si è tatuato l'occhio della mamma. Austin Mahon, Liam Hemsworth, Justin Bieber.